Buongiorno, benvenuti a questo mio buon giacca Ciao a tutti, ecco Gia, prego a tutti Ciao a tutti, benvenuti Conoscetevi a ritrovare Gia Quindi possiamo cominciare subito, cosa dite? Vai, io lo conosco Se lo conosceva bene, la storia è di questo bambinetto che viene rinchiuto dalla madre che sente le voci e siccome stava per ucciderlo si nasconde su una botta che ha trovato una stanza che era un bambino rinchiuto dalla madre Ma è neanche come Ucciso è per una bomba, spazi però è ok Allora, sostanzialmente noi siamo questi Isacco siamo Ok, e col mouse spariamo Esattamente, non ho ancora capito cosa spara credo che spari gli occhi Isacco Va bene, sinistro o destra? Destra Destra E si parte, allora dovete fare fuori tutti questi costricciatoli Inutili Ti danno solo partite Sono subito le voci No, così, no Ah, non ve l'ho detto ma Non ci sono stato adattito, non ci sono morti Nooo, dobbiamo fuggire qui Nooo, davvero Nooo, no Aia No, tu sembra che sei morto Eh si, non è facile Sembra ma Adesso lo prendo No, sono già andato al boss Muore Ma cazzo, è morto Ecco Questo è il suo testamento Lascia tutto al suo ca... Al suo gatto Guppi, guppi, guppi Certo Ah, che cambia sempre O che venga anche il livello Ma ti riprova, ma perché avete stavuto a schiacciare 20 volte Se mi spaccate il tasto del mouse Ho sempre paura di... Aspetta Ehi, zoci Ho sempre paura di... Finire le punizioni No, qui si spalare cosa facciamo Ecco, hai perso un 8, vai a prenderlo Che straviolento a sto gioco Questa roba Prendilo, non devi sparargli Una racchima di grande Qua, per prendere la chiave devi usare la bomba per spaccare la roccia E poi spacca Avvicinati innanzitutto alla roccia E metti la bomba Con lo spazio Con l'hier Ecco Con il banati Sai che ci fa Guarda il boss Si, quella era la porta del boss Quindi... Ah, qua c'è la mappa Si, sopra c'è la mappa Ma se finisci il livello Lo puoi insieme No No, finisci il livello Vai avanti Vai avanti Hai peccato un altro mini boss E' un Bomberman Questo gioco è un livello di mezzo tra Bomberman E' Bomberman questo No, va bene, l'hanno fatto ispirandosi a Bomberman questo livello Va Ragazzi, oggi io ho mal di schiena di quelli secolari Se proprio bisogna dirlo, diciamo Ho mal di schiena secolare Crack the sky Spence Mi ha partito via l'occhio Cioè, non provo proprio a fare Non provo proprio a fare A fare space No, non spreco la roba Allora non ci sono i miei nemici E deve essere qualche roba super potente Entriamo qua che mi faccio male Le divisa i denti Mi faccio male Mi piace Dov'è che c'è? Perché c'è questo? Che sto povero è Derb Derb ciao mamma questo si è vero questo qua mamma mi sfascia questo ecco quello servito yes coroncina guarderlo correndo buon via secondo livello adesso appunto adesso partiamo da qua cosa succede nel gabinetto? ehi si ricorda quando era piccolo che lo prendevano in giro quando era la gabinetta cose sai che davvero vorrei ci vado? succederà qualcosa? sicuramente è inutile andarsi sopra beh appunto ho perso metà vita per niente ah si è aperto ma è bella che era un amico si credici andiamo da prudere ah ah l'appendino ah ecco figurati eh si si è piccato l'appendino nel cattello ah bene tutto con il bonz ma si è aperto si è aperto qui wow csssss c'è palone energetica palone energetica è già morto e quando la faccio è un po' d'assi guarda c'è un po' di la voodoo si sta in mechie dai c'è la voodoo è un po' magia per te per mechie sparassi non ci credo doppio dei colpi non vale c'è la sorella io ho perso l'occhio in te sta roba ora vai a me con la testa del gatto mozzata oh andiamo a combattere allora si ma sei super power eh si c'ho otto vite vai 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 al boss c'è ahhh va bene ha quattro e otto vite mamma mia si ma devo rifarmi ancora si ma devo rifarmi ancora è più che altro che è quello il fatto muori subito perché c'è l'indrattante vite e muori quindi devi rifare ancora tutto cioè non devo farmi mai colpire praticamente il mio video è stata una spiegatura è un po' è un po' oh mi serviva un po' più fuori guarda cos'è mouse going first adesso sono tutte queste pasticche il pasticcomone il pasticcomone il pasticcomone ah però le lascio devo sceglierne una vabbè scegliamo questa qua particolarmente torro un po' abbiamo bloccato eva e magari c'è degli altri poteri e vai eva ah 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 sa che Isabella non ha niente ha 3 di vita 2 di corsa e 2 di arma ah lei ha 1 di vita 3 di corsa e 1 di arma madonna posta posta e iva e va interessante interessante non ci credo cosi il kickbox così mi sono sentito poco bene 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 dai ma quanti oggetti avevo? questo era 2 prime di top ice se quindi vi è piaciuto bussate bussate e vi sarà aperto tanto poi rimanerete iscrivetevi commentate condividete e divertite guardate tutti gli altri video peace ciao ciao ciao